Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono Barbie Mare, vi faccio vedere cosa ho acquistato alla Conad e ci sono andata quel giorno quando vi ho fatto il vlog, se non l'avete ancora visto vi invito ad andarlo a guardare è il mio ultimo vlog, tante cose da fare allora, inizio subito a farvi vedere cosa ho acquistato allora, se avete visto già appunto il vlog sapete che comunque ho fatto quel giorno due spese in due supermercati quindi non c'è quella mega spesa, perché comunque è suddivisa in due supermercati allora, vi faccio vedere per prima cosa l'olio, così almeno sono tranquilla, lo metto lì allora, questo è un olio che mi piace tantissimo, è un olio extravergine di oliva non filtrato il mosto di Piccardo e Savorè, ottenuto a freddo dal 1990 ed è venuto in offerta 4,49 euro, sempre un litro adoro questa bottiglia con il manico rotondo mi piace davvero troppo, ma poi comunque è buono anche come sapore io scopazza per questo olio, ogni volta che lo metto in offerta io lo acquisto sempre allora, iniziamo allora, se avete visto già i miei video precedenti sapete che io vado matta per questo giornale dove ci sono i programmi televisivi settimanali ed è il nuovo tv, che costa un euro siccome che comunque la Conad ha il reparto giornali, l'ho acquistato lì poi ho preso un chilo di biscotti oro, classico, il gusto della semplicità questi qua mi sono segnata il prezzo da qualche parte, eccolo qui 2,79 euro, un chilo, c'era praticamente lo sconto del 50% poi ho preso un pacco di merendine flauti al cioccolato della Molino Bianco e questi mi sono venuti 1,59 euro ce ne sono 8 poi il burro e ne vado matta anche di questo della Parmareggio 1,24 euro in offerta 200 grammi questo è uno dei miei burri preferiti poi ho preso che avevo già preso però questa pasta qui è praticamente una confezione da 250 grammi in questo caso sono... come si li chiamano? boh, non c'è scritto come li chiamano vabbè, comunque questo formato qui 74 centesimi è una pasta praticamente della Casa Milo questa è un'azienda che c'è dal 1870 ed è una pasta biologica infatti qui dice ingredienti semola di grano duro da agricoltura biologica ed acqua quindi è 100% biologico ed è un'azienda pugliese della Puglia io adoro, adoro questa pasta quindi ne ho presi due pacchettini poi ho preso il bone roll dell'Aia classico c'era anche con lo spec ma io lo preferisco classico questo è un bone roll che io di solito acquisto sempre con l'offerta che di solito quando c'è l'offerta costa 4,99 euro invece questa volta l'ho pagato ben 7,52 euro senza offerta penso che questo ormai lo conosciate tutti perché comunque come devo dire cioè è molto venduto ecco 750 grammi questo sacchetto è finito secondo sacchetto che però c'è poca roba allora nutella o perlomeno crema alle nocciole della Conad io l'ho presa altre volte non è male e quindi la prendo e la riprendo senza problemi se io riesco a prendere questo sacchetto magari e me lo metto qui senza creare troppa confusione magari anche meglio allora e se non faccio troppo rumore allora carta igienica regina 1,99 euro 4 rotuloni super compatti anche se da risparmio casa non questa regina mi sembra un'altra marca venisse 1,49 euro sotto costo vabbè poi ogni tanto io prendo queste zuppe della dimmi di sì in questo caso io ho acquistato la bellutata di asparagi e questa l'ho presa pure senza offerta 3,49 euro sono 620 grammi quando sono sola praticamente o non ho voglia oppure non ho tempo per cucinare mi faccio una di queste perché comunque va in microonde è già pronta mi sembra che poi ci vogliano 3 minuti sì 3 minuti ed è pronta questa bellutata di asparagi non l'ho mai mai assaggiata quindi è una novità per me poi ho preso una passata verace cirio questa qui 69 centesimi e tanto le passate a casa comunque vanno sempre quindi non c'è nessun problema e poi come ultimo prodottino questa squisitezza non so se voi le avete mai prese della Nobberasco sono praticamente delle castagne si chiamano viva la castagna morbide subito pronte fonte di potassio il potassio contribuisce alla normale funzione muscolare allora sono 100 grammi di castagne e costano costano un bel po' perché le ho pagate 4,99 euro senza offerta e secondo me è un prezzo un po' altino perché comunque alla fine sono 100 grammi però sono proprio una delizia buonissima basta ragazzi io ho finito con lo svuoto alla spesa conad vi ringrazio per aver visto anche questo video vi ringrazio per seguirmi vi ringrazio per tutti i like che mi mettete per tutto per tutto e per chi ancora non mi segue su Instagram vi invito a seguirmi anche lì mi trovate come barbimare youtube tutto in minuscolo tutto attaccato e gentilmente se ne avete sempre voglia se magari mi mettete anche un bel mi piace sulla mia pagina facebook dove mi trovate come barbimare esattamente come qui su youtube perché comunque queste cose fanno piacere grazie mille se vi è piaciuto il video mi raccomando non scordate di mettere un bel like vi aspetto al prossimo video non mancate e iscrivetevi se non siete ancora iscritti un bacione grande a tutti e a presto ciao